Dallo suo insedimento a Gela, datato 4 luglio scorso, sono passati due mesi e 17 giorni, ma il procuratore capo della Repubblica preso il Tribunale, Fernando Asalo, ha già un quadro chiaro su come si sviluppa la quotidianità locale tra pregi e difetti. Il magistrato conosce bene Gela. Quando ha lavorato alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, si è proprio occupato della malavita gelese, ma da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata. È una realtà sicuramente cambiata e si vede anche, girando per strada e vedendo anche la possibilità di verificare all'interno del mio ufficio un aumento del numero delle denunzie e della domanda di giustizia e di legalità che è sicuramente più presente rispetto a qualche anno fa. Ma qual è l'emergenza che è inseguita quotidianamente? Il termine inseguire è determinato dalla circostanza delle enormi difficoltà in cui ci troviamo ad affrontare la quotidianità per la carenza di personale amministrativo, per la carenza anche di magistrati che rispetto a un organico di 5 magistrati noi attualmente siamo in 3 più il procuratore con una collega che sta andando via perché ha finito il periodo di applicazione. Quindi le realtà più frequenti attengono a quel tipico fenomeno gelese che è l'incendio, il danneggiamento seguito dall'incendio delle autovetture che rimane sempre a carico di gnoti, spesso a carico di gnoti anche perché quando noi sollecitiamo e stiamo cercando di intervenire in questo per comprendere quali sono le motivazioni di un determinato gesto sentendo la persona offesa chi ha subito il fatto delittuoso c'è ancora un po' di resistenza a dire anche un minimo di indicazione, di sospetto, di elemento che possa portare all'individuazione degli autori di reato. E accanto a questo ci sono anche delle situazioni relativi a reati ambientali che sono comunque pur sempre presenti nonostante la chiusura del petrolchimico già da qualche tempo che ci impegnano con una certa frequenza, oltre ai fenomeni ordinari che noi andiamo a riscontrare che sono sicuramente presenti in una realtà con circa 80.000 abitanti, quale quella gelese. Molti operai dello stabilimento non lavorano più, c'è il rischio che possono essere attratti dalla malavita? È possibile, sicuramente dal mio punto di vista posso dire che sicuramente è appetibile dalla criminalità organizzata chi non ha un lavoro, non ha una stabilità, non ha una risposta da parte dello Stato però non spetta a me evidentemente fornire risposte concrete sotto questo profilo. Denunciare ogni forma di prevaricazione, denunciare sempre. Bisogna denunciare anche in maniera motivata, sensata, pensando che la procura o il procuratore o i sostituti che poi sono un unico ufficio, l'ufficio della procura, non è fatto dal procuratore ma dai magistrati, dal personale amministrativo e dalla polizia giudiziaria, sia una denuncia sempre mirata la procura non è il confessionale, non è un luogo dove poter sfogare i propri rancori o le proprie frustrazioni è un luogo istituzionale deputato a ricercare autori di determinati fatti di reato sulla base e anche a qualificare determinati eventi come notizie di reato e fatti di reato in presenza però di denunzie che siano qualificate, specifiche, dettagliate e non oggetto di confusione o di dissidi di altro genere.